Hola a todos! Io sono Davide e questo video sinceramente non lo volevo fare ma mi hanno costretto dai lo dedico agli amici siciliani che mi seguono nel canale e anche ai pugliesi perché l'olio è della Puglia di Foggia mi pare sono ordini che ho fatto su internet quindi non li spacchetto perché li ho già spacchettati tutti però li degusto dai andiamo a provarli assieme ragazzi ah sì mi dispiace ragazzi siciliani e anche foggesi foggiani scusate ma la birra ovviamente non è della Sicilia ovviamente solo tedesca e ora mentre andiamo a degustare tutta questa roba così il pane perché l'olio la morte sua è il pane anche se questo pane non mi piace parliamo anche un po' di business no? mamma mia scusate ci sarà un casino a me donna c'è l'ascensore che fa un bordello non mi sono preparato nulla quindi scusate se dirò qualche cavolata prosit questo non lo assaggeremo perché non mi sembra il caso partiamo da no anche questo assolutamente no perché io la carne non la mangio sì ragazzi non sono un mago che ho fatto sparire la birra solo che ieri ho avuto dei problemi tecnici quindi riprendiamo il video da qua allora proviamo un po' di roba dai e nel mentre parliamo di business ovviamente allora come vi dicevo nel mio canale telegram è un progetto ho dimenticato la farchetta è un progetto abbastanza ambizioso no la bomba vulcanica mi sa che è pesante partiamo dal ragù di tonno ah è buono qua il tonno eh allora questo progetto ho aperto un nuovo sito sì un nuovo sito ho aperto un nuovo ebay che vi renderò pubblico molto probabilmente già sotto questo video o sotto i prossimi video ve li metterò sempre sotto in descrizione sarà il mio nuovo negozio ebay dove venderò della roba praticamente insieme a voi perché deciderò di fare un video non lo so se lo farò ogni giorno magari sarà complicato però fare degli aggiornamenti giornalmente o settimanalmente o tre volte a settimana qua su youtube ah ma ci sono proprio i pezzi di tonno ma che figata qua su youtube oppure su come si dice su quel canale viola o da qualche altra parte in qualche live o qualcosa vi farò vedere sempre aggiornati come procede questo va meglio e non male vedo meglio ragazzi però vabbè facciamo gli animali o prendiamo il bicchiere? prendiamo il bicchiere dai se non c'eravate voi il bicchiere non c'era e che classe i bicchieri nuovi comprati oggi c'è anche l'acqua mi sa che è della Sicilia però la prendo qua ah qua l'acqua ragazzi questo è un occhio della testa allora dicevo ho aperto questo negozio che vi farò vedere e vorrò vorrò tipo portarvi con me dentro al mio lavoro voglio sì ho idee ancora un po' confuse su come metterlo in alto ce l'ho già da un po' che mi balea in testa questa idea di aprire un nuovo negozio e di farvi vedere un po' come va e un po' cosa si riesce a fare partendo effettivamente da zero perché ovviamente non venderò già la merce che ho io nel mio deposito ma sarà una cosa proprio totalmente nuovo però non partirò penso dal dropshipping perché voglio quest'account che deve essere sempre di lavoro quindi ho visto i problemi che si hanno con il dropshipping che si può avere l'account flaggato cioè che ebay ti dà meno visibilità e quindi non voglio avere questi problemi anche se ovviamente so che se uno inizia da zero gli conviene iniziare con il dropshipping però io comunque metterò a mia disposizione un budget davvero piccolissimo che potrebbe avere chiunque sinceramente basterebbe andare a lavorare un mese e avreste già questo budget quindi partirò da un budget da 500 a 1000 euro che è un budget davvero ridicolo per iniziare un nuovo lavoro pensate ad andare a aprire un vero negozio con 500 a 1000 euro ma neanche l'affitto pagate non pagate niente io invece lo userò per comprare prodotti no questo lo tengo per ultimo che mi sa che è una figata sugo al nero di seppia queste robe qua sono buone da mangiare sembrava aperto sono buone da mangiare con la pasta secondo me più che col pane adesso andiamo al nero di seppia e queste cagatine qua se facciamo i soldi per fine anno non 2021 fino all'anno 2021 assaggerò il caviale io veramente l'ho già assaggiato però caviale champagne e ostriche le ostriche si trovano il caviale è un po' più difficile lo compriamo e ce lo facciamo arrivare direttamente dalla Russia il caviale non posso dirvi se è buono o no perché secondo me non è da mangiare nel pane fare gli spaletti le penne quello che volete tagliatelle quello che volete questo comunque sarà il piatto forte però vedo se aprirlo adesso perché preferisco aprirlo in famiglia e poi adesso al momento sono da solo vedremo questo è davvero no spero che è buono perché con quello che l'ho pagato mi impazzisco ho pagato mi pare 29-30 euro qualcosa del genere vedo era pure in offerta questo olio qua non lo provo perché è chiuso sigillato lo voglio tenere così questo qua l'ho preso sinceramente solo per la bottiglia perché è davvero carino davvero carino davvero carino questa allora quindi dicevamo un budget da 500 a 1000 euro e con questo budget comprerò dei prodotti e vedremo un po' i prodotti io ho in mente di comprare qualcosa da qualche vecchio fornitore che già conosco che già so come lavorano che però non ho ordine attualmente merce diversa dal mio store principale anche perché se no non avrebbe senso rimettere la stessa merce poi ce n'è troppa nel mio store principale sapete c'ho continuo adesso quasi 7000 prodotti quindi non potrei neanche far così però non ho in mente di usare merce più già in casa quindi ho in mente di come vi ho detto sì penso che userò penso che importerò merce proviamo l'olio al peperoncino penso che importerò merce per 500.000 euro range della merce da 1 a 5 euro penso qualcosa del genere e penso che ordinerò pochi prodotti solo 2-3 prodotti cioè no scusate ho confuso ordinerò solo 2-3 pezzi massimo ogni prodotto qualcosa del genere così più o meno facciamo finta che ogni prodotto mi costa una media di 10 euro io con 500 euro avrò già 50 prodotti diversi e con 50 prodotti diversi possiamo già fare inserzioni per un mese perché poi vedrete tutto il piano editoriale io mi sono già fatto un business plan sul pc la nicchia penso che sia articoli per massaggi credo sì qualcosa del genere comunque articoli per massaggi o non lo so non lo so qua non riesco anche questo se lo copo sta tutto un macello speriamo almeno che sia buono perché l'idea quindi erano tre o il dropshipping iniziale però come vi ho detto non ho voglia sinceramente mi fa perdere tanto tempo poi non vorrei macchiare questo account e a voi sì a voi per voi sarebbe forse meglio perché tutti quelli che mi guardano più o meno fanno dropshipping o se hanno voglia di iniziare in questo lavoro lo farebbero con dropshipping ma tanto ragazzi non cambia niente dropshipping o non dropshipping fate finta che la merce non ce l'ho io fate finta che io sto lavorando in dropshipping non cambia davvero niente ragazzi perché intanto i titoli delle inserzioni sono uguali i prodotti possono essere uguali non è che cambia tanto quindi voi fate finta che io sto lavorando in dropshipping fate finta che io invece di ordinare di spendere quei 500 iniziali io sto mettendo questi prodotti che c'è al mio fornitore però io non li compro li compro solo se li vendo voi fate finta che sia così poi la seconda opzione quella che vi ho detto che è quella che mi piace di più ordinare già da vecchi fornitori perché almeno non ho problemi a cercare il fornitore che richiede tempo puoi cercare i metodi di spedizione tutte queste cose qua che davvero mi richiedono tanto tempo non è che ne ho tanto a disposizione cioè io questa cosa qua oltre che farla vabbè ok la faccio anche per il canale ma più che altro la faccio per guadagnare io cioè alla fine alla fine qua siamo tutti dei businessmen mica siamo dei pagliaccetti che stiamo qua a perdere tempo queste cose qua vanno fatte per guadagnare ragazzi è inutile girarci intorno la terza opzione mi dimenticavo è quella che mi piace di più però è quella più difficile non riesco ragazzi poi ci vorrebbe la moglie il terzo scenario il terzo piano è anche quello che mi piace di più è quello che praticamente è più complicato non ci abbiamo nera merce non ci abbiamo un fornitore non ci abbiamo niente partiamo da zero è più bello sì è più bello però per iniziare è più complicato ora cosa siamo? siamo l'8 dicembre non avremmo neanche il tempo materiale dovremmo cercare dovremmo fare sourcing cioè ricercare prodotti ricercare fornitore molto probabilmente sì europeo o cinese e poi il problema sarebbe che sì magari riusciamo a farlo ma troviamo un prodotto io non voglio trovare 50 non avrebbe senso perché come vi ho sempre detto se noi mettiamo un prodotto oggi mettiamo io la parto all'inizio il primo gennaio la sfida se inizio il primo gennaio e metto il primo prodotto poi gli altri cos'è? ne ha 31 gennaio mi pare no? gli altri 30 giorni cosa faccio? lascio tutto l'immobile non tocco più niente così serve il primo passo verso il fallimento ragazzi non lo aspettate qua è pericoloso l'olio mamma mia questo qua è piccantissimo oh mio dio mamma mia se è rosso sì è piccante mamma mia è piccante però è mangiabile c'è una una cosa simile comprata in Madagascar con l'immangiabile è piccantissimo ne metti solo un pizzichino e muori quello sì è piccante però eh però io non è che mangio tanto piccante già qua mia moglie se lo se non bevi come fosse acqua vabbè buono comunque bello qua c'è di nuovo da impazzire io ho preso tutto per questo questo è una bomba secondo me infatti si chiama bomba vulcanica cazzo già dal nome dal nome sono preoccupato comunque dicevo quello lì è l'opzione la terza opzione la migliore perché sarebbe come se uno proprio inizia non inizia dal dropshipping oppure inizia dal dropshipping però deve comprare i primi prodotti e non sapremo dove sbattere la testa però è complicato devo trovare il fornitore devo trovare le spedizioni la logistica è un casino oramai ragazzi trovare la logistica soprattutto in Cina è carissimo oramai in Europa invece dovrei trovare il fornitore e trovare il fornitore che spedisce qua a Malta ragazzi sarebbe davvero davvero molto 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 complicato facciamo così facciamo prima però lo farò quindi io partirò dalla seconda idea cioè il primo mese merce da fornitori che già conosco almeno so anche non devo stare lì a guardare ma sono affidabili non sono affidabili perché sai non è che voglio comprare dal primo fornitore che passa e allora comprerò da sti fornitori che già ho comprato in passato merce che ho già comprato e comprerò da loro farò un altro file Excel dove calcolerò tutti i prodotti che ho comprato ho comprato 500 euro di prodotti vedremo quanti ne abbiamo venduti vedremo quanto abbiamo speso di ebay vedremo quanto ho speso di spedizione ovviamente perché spedirò io molto probabilmente vi farò vedere anche dei video dove faccio i pacchetti cioè magari non li farò personalmente io però farò vedere i video dove faccio i pacchetti sempre se vendiamo perché non è detto possiamo anche non vendere niente mi hanno messo troppo e poi a fine mese vediamo quanto abbiamo guadagnato per i primi mesi non sto lì a fare finta che devo pagare le tasse tipo come dovreste pagarle voi in Italia io metto tutto nello store principale e le tasse le pago come fosse merce che ho venduto nello store principale perché comunque le tasse è ovvio le devo pagare però non sto lì a dividere tipo eh il primo mese mi è costato se volete possiamo anche farlo tipo il primo mese mi è costato di IMS faccio finta di essere in Italia mi è costato non so quanto di costo non mi ricordo più vi ho messo vi ho fatto tanti video a riguardo mi pare che era sui 200 250 euro al mese vediamo quanto guadagniamo quanto perdiamo calcolando le tasse in Italia e le cose italiane anche se ripeto io non sono in Italia e non c'ho niente a che fare con l'Italia però in medesimo come se foste lui che mi ricordo no scherzo qui picca picca però picchia eh non dico di no che non picchia però non così tanto cazzo ho messo un pane pieno praticamente dovrei essere con la lingua fuori nella neve che qua non c'è dovreste provare quello del Madagascar mamma mia quello di spacca il brutto olio passiamo all'olio no questo è buono questo è buono posso assaggiare stasera a mia moglie questo è buono buono quindi faremo potremmo anche fare questa simulazione come se io fossi in Italia ho aperto la partita IVA facciamo finta regime forfettario e vedremo a fine dell'anno dell'anno 2022 quanto abbiamo tratto di profitto partendo da zero potrebbe essere anche una cosa bella così no ragazzi scrivetelo pure sotto nei commenti se vi potrebbe far piacere anche sto video qua cioè non sto video anche perché non sarà un video sarà tipo un giorni come è che si può chiamare sarà tipo avete presente quelli che che fanno vedere in televisione magari che affittano cioè che vanno a comprare una casa di smessa la mettono a nuovo la rivendono oppure quelli che Alan e Tom che vanno a fare le aste fanno vedere loro che lavorano vanno alle aste vanno a comprare vendono di poi di là ecco vorrei essere un video cioè un video una serie di video fatti così che poi potrebbero essere anche dei live dove vi faccio proprio vedere la vita proprio di un lavoratore alla fine di un lavoratore che vende su ebay su ebay amazon o comunque online che lavora online ok se qua faccio un casino di madonna ci vorrei un assistente non c'ho l'assistente oppala mamma mia che bel colore mamma mia qua mi ammazzano odio sulla tovaglia non dite niente ragazzi lo faccio così ma non è che non è la maniera giusta però l'olio sul pane da qua dal pane dall'olio sul pane capisci solo l'olio è buono non è quelle schifezze da 3-4 euro che trovi al supermercato da voi in Italia 3-4 euro perché qua 3-4 euro non ti danno neanche neanche l'olio da friggere praticamente comunque saranno dei video così secondo me sarebbero molto interessanti per vedere uno che inizia da zero cosa può fare ovvio io ho le skills ho esperienza e ho tutto quello che non può avere uno che inizia proprio da zero quindi sotto questo aspetto io sarò avvantaggiato però vedremo se si riuscirà a guadagnare 1000 euro al mese puliti vedremo dopo quanto si riuscirà a raggiungere questa cifra io spero che si riesca a raggiungere dopo 2-3 mesi anche se è difficile perché il budget è risibile 500 euro però ah non l'ho detto questa simulazione faremo finta che sono uno un ragazzo che inizia uno di 18-19 anni che vive con i genitori e praticamente i soldi che guadagnano non gli servono e quindi rinvestirò il 100% non so primo mese guadagniamo 200 euro dal secondo mese 200 euro tutti in prodotti poi guadagniamo non lo so 700 euro tutti in prodotti poi però quando arriveremo magari a una determinata cifra non lo so magari a 1000 euro facciamo 1000 euro al mese inizieremo 1000 euro togliamo già i 250 euro che l'ipotetica IMS poi non lo so quant'è di tasse andremo a calcolare lo sarà magari il 10-15% quel forfettario che lì dipende da molte cose allora su 1000 euro mettiamo 100 euro 150 euro lo mettiamo da parte che va al forfettario che va alle tasse 250 facciamo finta che va all'IMS e noi avremo 600 euro ancora da investire e tutto andrà in prodotti però questo facciamolo dopo perché se lo facciamo da subito è quasi impossibile quindi come vi ho detto nei video dovreste già metterveli da parte per un anno cioè non potete iniziare aprire partita IWA con 0 euro da parte minimo dovrete avere almeno proprio almeno almeno 6 mesi 6 mesi da parte già pagati per l'IMS perché quelli li ho pagati anche se guadagnate 0 quelli vanno pagati ragazzi oh io me ne faccio un altro io me ne faccio un altro questo è buonissimo penso che non c'è non avete dubbi su cosa ho gradito di più penso che non ci siano dubbi ho fatto un casino di nuovo madonna è bello bello denso non mi sa buono non mi sa buono provato questo è bello buono e questo e questo non so se aprirlo questo non so se aprirlo quindi vedremo l'obiettivo sarà arrivare a fine anno di aver creato qualcosa ban permettendo sempre perché se ci bannano finisce tutto poi una cosa non lo so adesso ragionando se sarà subito dal primo secondo mese cioè a fine primo mese già dal secondo mese iniziare a trovare merce completamente diverse per aprire uno store per poi magari passare al private label però questo non lo so perché come avete visto il primo mese investendo 500 euro se guadagniamo 200 250 euro siamo già stati bravi e con 250 euro non so se riusciamo andare a importare qualcosa magari si magari dei braccialetti qualcosa del genere qualcosa che costa poco ed è una nicchia che mi piace quella tipo chakra meditazione cose così quella lì mi piace potrei aprire poi uno store solo di quello però come detto adesso iniziamo da fornitori che conosco quindi penso articoli per massaggi o roba non so tipo parla farmacia o tipo buo per la farmacia non lo so e poi magari rompo un po' le scatole massaggi va bene i messaggi va bene vediamo pensavo anche lingerie ma lingerie davvero complicatissima ragazzi è stata la larga della lingerie io la trovo la trovo la trovo la trovo da sti fornitori ma costa poco non costa tanto però è davvero complicato ci sono un casino di cinesi che la vendono a un euro due euro non ci stiamo dentro ragazzi oh io lo apro ragazzi chi se ne frega ma io lo apro se riesco quindi dicevo con 200-250 euro sarà difficile comunque io poi l'obiettivo finale è arrivare a minimo massimo dopo 3-4 mesi a non avere più articoli per massaggi o cose così o magari sì però fare un private label importare dalla Cina soprattutto importare merce che magari non ha nessuno fare un private label fare un po' di pubblicità cioè creare qualcosa andare a creare qualcosa ragazzi vedremo un po' che alla fine è il sogno di tutti quello che tutti magari aspiriamo creare qualcosa di nostro unico unico che non possono avere gli altri e quindi se funziona ovviamente si può fare il prezzo che vogliamo noi e quello è il vantaggio di fare un private label più che altro se funziona cioè noi questa roba qua questo panettone se lo facciamo noi che invece che uno pre-confezionato che dobbiamo vendere non so vendiamo tipo un bauli dobbiamo venderlo al prezzo degli altri lo facciamo noi lo possiamo vendere anche a 100 euro perché è fatto da noi madonna però come cazzo si fa ragazzi arrivo bellissimo prodotto forno lievito naturale cioccolato peso da consumarsi a marzo 2022 mi aveva detto 45 giorni che gli ho detto se andava bene per Natale vabbè già sbarazzini sbarazziamo sbarazzini vediamo come si presenta eccolo qua ragazzi con i pezzi di pera sopra cioccolato pera mi pare certo cioccolato pera l'eventuale pacità la differenza colorazione della classe è dovuta all'erograzione artigianale si si è artigianale ragazzi come vi ho detto 30 lascopuzze 30 orruzzi però dai vediamo se ci sta io sinceramente più di non ho mai pagato niente non sono un appassionato neanche di panettoni però andiamo a assaggiarlo dai sembra tipo le merendine dal profumo che è venuto fuori avete presente tipo le le merendine quelle della colazione comunque l'obiettivo finale ovviamente sarà guadagnarci sarà vedere quanto una persona che inizia da zero riesce a portare uno store avanti cioè avanti uno store poi ragazzi molto probabilmente creerò un altro gruppo però questa volta non più gratuito ragazzi perché davvero mi richiede tantissimo tempo aprirò un gruppo se trovo la piattaforma anzi se ne avete una da consigliarmi iscrivete me lo qua sotto lo so che non dovreste essere voi a consigliarmi queste cose però farò un gruppo molto probabilmente a pagamento ma poca roba sarà magari 5-10 euro al mese qualcosa del genere vediamo un po' vediamo un po' dove passo per passo vi farò vedere cosa si fa anche magari vi aiuterò vi darò dei consigli e poi aprirò un canale anche c'è un canale vi darò poi il link dove potremmo fare delle consulenze o comunque fare due chiacchiere assieme se volete parlare con me vi prenotate e e facciamo quattro chiacchiere di business ovviamente non no se volete parliamo di qualunque cosa e penso che lo metterò a pochissimo ragazzi so che le consulenze costano 300-400 euro all'ora all'ora minimo io vi farò pagare pochissimo se volete far quattro chiacchiere con me se volete consigli se volete che mi fa vi do uno sguardo al vostro negozio se vi do un'idea magari su un prodotto su secondo me se per me con la mia esperienza se questo prodotto può andare su ebay se ve ne consiglio un altro e questa consulenza costerà poco adesso vediamo comunque costerà massimo massimo 50 euro l'ora massimo ma penso anche meno praticamente è un'ora che mi porto via dal mio lavoro quindi la farò pagare all'incirca quanto guadagni a re se stessi lavorando più o meno eh cazzo questo è buono eh proprio buono cioè aspettate è buono quello sopra quello qua è buono però non sono un esperto però anche di olio non è che sono un grande esperto però uno schifoso e uno buono lo riconosco abbastanza subito poi sicuramente questo non sarà il più buono nel mondo però è buono c'è un altro gusto strano questo è buono pere gocce di cioccolato madonna ma anche sti qua ma io pensavo che sti qua fatti tipo in casa non c'avessero tutte stelle le robe poi vabbè io che sono un appassionato di Bressanini dovrei sapere che non è che sono robe che fanno morire tipo sto emulsionante e 322 però anche se sono appassionato di Bressanini preferirei non leggere nell'etichetta sinceramente preferirei leggere tutto il naturale piuttosto che scada il giorno dopo che lo compro però preferisco le cose tutte naturali e per questo lo storo vorrà essere basato su queste cose qua cioè non proprio su questo perché non lo faccio sul cibo però su cose green ecosostenibili robe per fricchettori diciamo buono buono ragazzi questo è buono questo è buono prima cosa che faccio lascio qua non lo finisco e li lo porto a mia moglie e che dire spero che vi piaccia la mia idea di business il video sicuramente non vi piacerà però fa niente e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti